Un premio alla Regione Toscana per le sue politiche sanitarie giudicate un modello per garantire la sostenibilità della sanità pubblica è quanto è stato conferito a Bologna nell'ambito della nona conferenza nazionale della Fondazione GIMBE dal titolo Evidenze e innovazioni per la sostenibilità della sanità pubblica. L'evento che ha registrato oltre 500 partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane ha consentito di fare il punto sul servizio sanitario pubblico e sulle prospettive di questo sistema per le future generazioni.